Buonasera e benvenuti con l'informazione serale di Telefriuli. In apertura la questione del coronavirus rimane pesante, il contagio nelle case di riposo, oggi anche un decesso, una casa di riposo a Tolmezzo, ma a preoccupare più di tutti è l'area triestina, con un nuovo focolaio di coronavirus riscontrato a Fernetti, dove 41 anziani sono risultati positivi, due persone sono decedute. La regione ha lavoro per uno screening ad ampio raggio nelle strutture private, mentre nelle strutture più grandi è in corso un'ulteriore separazione dei pazienti tra quelli negativi e quelli positivi. Sotto controllo la situazione nelle province di Udine e Gorizia. Ci dice tutto Andrea Pierini. Sono le quasi 90 case di riposo di Trieste a creare le preoccupazioni più grandi alla regione sul fronte dell'emergenza Covid-19. La situazione più critica è al momento l'hotel Fernetti, dove ci sono stati due decessi tra i 41 anziani positivi, tutti trasferiti in un piano ad hoc. La struttura aveva ottenuto proprio negli scorsi mesi ulteriori 39 posti convenzionati dall'Asugi a seguito di verifiche all'interno della struttura. Ed è ceduto intanto un inquilino del condominio che ospitava i 36 ospiti della Primula, oggi trasferiti. La persona era seguita per patologie oncologiche. Anche in casa Emmaus, con 122 posti, ci sono 40 positivi e all'ITIS tra i 500 residenti. Si registrano invece 44 casi di positività. A casa Bartoli e Serena, da cui proveniva la prima deceduta con il Covid in regione, i positivi sono una ventina in questo momento in via di guarigione. Nelle strutture di Trieste, spiega il vicepresidente Riccardo Riccardi, è in corso uno screening ad ampio raggio nelle strutture private per anziani promiscui. In quelle di grandi dimensioni come ITIS e Emmaus e Fernetti è stato inserito il personale dell'azienda sanitaria, come testimonia anche il mezzo parcheggiato all'esterno di quest'ultima. La regione conferma invece che la situazione in Friuli è sotto controllo nelle circa 55 residenze e dopo Paluzza e Mortegliano non si registrano altri focolai. Se nelle 16 strutture del Goriziano non ci sono criticità, nelle 25 della destra tagliamento, al momento sono stati distaccati tre infermieri dell'azienda sanitaria nella sola casa di riposo Micoli Toscano di Castions di Zopola, un focolaio già noto. Sono iniziati nel frattempo i tamponi a tappeto sui 120 personale della casa di riposo comunale di Via Crocera a Monfalcone. Non ci sono stati casi positivi nella struttura, l'obiettivo comunque è di fugare ogni dubbio. Siamo davanti alla casa di riposo, davanti a questa bella struttura che la Flesci ci ha messo gratuitamente a disposizione assieme agli operatori e professionisti dell'azienda sanitaria e tutti gli operatori della nostra casa di riposo che per adesso, e speriamo che continui così, è virus free e da oggi fanno i tamponi per il controllo dell'eventuale positività. Le malattie che sono sempre presenti direi sono quasi sparite, questo vuol dire una grande abbenegazione e affetto nei confronti della struttura e soprattutto degli ospiti. Devo dire che è stato un mese intenso, questi tre o quattro giorni che mi separano dall'esito del tampone mi vedranno forse ancora più in ansia. Ci teniamo particolarmente a che tutto sia negativo. Noi ci siamo attivati veramente subito, proprio affinché di bloccare la propagazione assolutamente del virus e c'è una collaborazione, una condivisione diciamo quotidiana con la Sessualuise ma anche col distretto sanitario che si è messo a disposizione per quanto riguarda anche l'IDPI che ci fornisce con puntualità e quindi tutti assieme stiamo facendo un lavoro veramente importante. Il consueto bollettino odierne, casi positivi al coronavirus in Friuli-Venezia-Giulia sono 2.731, un incremento di 5.56 unità rispetto a venerdì. Totalmente guariti di 893 e clinicamente guariti, persone vero senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone, sono 213. Sono due decessi in più rispetto alla comunicazione di venerdì, invece i morti, quindi complessivamente 222 i decessi. Trieste è il territorio più colpito con 111, seguono Udine 65, Portelone 43, Gorizia 3. Relativamente ai casi positivi l'area triestina registra ancora maggior numero di infettati, 1.101. Arrivano intanto anche buone notizie attraverso le dichiarazioni dell'assessore Riccardi per quanto riguarda la casa secondariale di Udine, infatti i tamponi effettuati non hanno evidenziato casi di coronavirus all'interno della struttura, né tra i carcerati né tra il personale in servizio. Impietosi sono invece i dati riguardanti l'economia. Secondo l'elaborazione dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine, su dati promettei aggiornati a metà aprile 2020, si parla di una contrazione del PIL pari almeno 7,1% nel 2020, più intensa di quella che si potrebbe registrare in Italia, meno 6,5%, simile al callo che dovrebbe subire il nord-est, meno 7%. Crollano anche gli investimenti, meno 12% e l'export, meno 10%. La diffusione del Covid-19 su scala globale, spiega la Presidente degli Industriali, Anna Mareschi Danieli, ha innescato una recessione pesante di intensità pari o superiore a quella del 2008-2009. Lo scenario che si profila per l'economia del Friuli e Mezza Giulia già in rallentamento dalla seconda parte dello scorso anno, tale scenario, già di per sé molto preoccupante, è condizionato dall'ipotesi che si provvede a una progressiva rimozione del blocco produttivo a partire dall'inizio di maggio. Se così non fosse l'accaduto sarebbe ancora peggiore. Il lockdown, diciamo le cose con chiarezza, continua Mareschi, ormai è finito. Le imprese che già lavorano sono numerose ed è arrivata l'ora di ripartire davvero, superando la logica della distinzione per codici a teco e adottando quale parametro di riferimento la sicurezza dei lavoratori. Lo dice la logica e lo impongono i numeri che già oggi annunciano una crisi pesantissima. Manca invece solo l'ufficialità a questione di regione, ma ormai è chiaro che gli studenti non torneranno più sui banchi di scuola, almeno per quanto riguarda quest'anno. È stata firmata invece l'ordinanza per gli esami di maturità. La commissione sarà interna, il presidente esterno. Tutti verranno ammessi e per settembre si pensa a una strategia per far tornare tutti sui banchi di scuola, magari con l'utilizzo di palestre, corridoi, aule e magne per evitare assembramenti contatti. Sentiamo. Per quel che riguarda gli esami di maturità, abbiamo con certezza che la commissione sarà tutta formata da docenti interni, come il presidente esterno, e sappiamo che sicuramente tra le varie prove previste il colloquio ci sarà di sicuro. Cerchiamo di utilizzare il tempo che abbiamo davanti per invece far partire l'anno nuovo a settembre nelle migliori condizioni. Il primo scenario prevede la modalità dei doppi turni. Lo si è fatto in passato, lo si potrà fare anche a settembre, nelle scuole che però saranno in grado di trasformare in aula tutti gli spazi a disposizione. Mi riferisco ai corridoi, alle palestre, agli auditorium, così che poi le aule più grandi potrebbero essere riservate alle classi meno numerose. Un secondo scenario potrebbe prevedere una soluzione, per così dire, mista, ovvero le lezioni potrebbero essere erogate a distanza, come sta avvenendo adesso, e si potrebbe riservare invece i momenti in presenza alla somministrazione di verifiche scritte, pratiche o orali. C'è poi un terzo scenario. A settembre le classi potrebbero essere scisse, quindi gli studenti che non hanno particolari problemi a seguire la didattica a distanza potrebbero seguire le lezioni da casa e a scuola invece potrebbero rientrare quegli studenti che hanno necessità di essere seguiti da vicino perché devono recuperare delle lacune pregresse. Secondo in Italia dopo il Veneto, la regione Friuli-Venezia Giulia conquista la piazza d'onore su scala nazionale per quanto attiene alla qualità dell'offerta formativa del sistema ITS, ovvero gli istituti tecnici superiori. La graduatoria è stata ufficializzata dalla relazione ministeriale sul monitoraggio nazionale ITS 2020. A rendolo noto è l'assessore regionale alla formazione, Alessia Rosolenne. Gli ITS, afferma, costituiscono un segmento di istruzione terziaria professionalizzante e sono nati per contribuire a superare la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta nel mercato del lavoro. Si tratta di percorsi molto specifici, in settori chiave, quale il tessuto produttivo, che offrono occasioni occupazionali. Naturalmente, osserva l'assessore, la fase ermegenziale accentua la necessità di investire in nuove tecnologie e nella formazione di figure professionali altamente specializzate con spiccate e specifiche competenze digitali. Meccanica, sistema a casa, scienze della vita, logistica e informatica sono alcuni dei principali ambiti di specializzazione degli ITS. Il sistema in Friuli Venezia Giulia propone 14 corsi per 333 studenti e il prossimo anno il numero salirà a 16. Il bagaglio di competenze specifiche consente ai ragazzi di sviluppare una competitività lavorativa molto apprezzata dall'azienda. Non a caso la percentuale di occupati tra gli studenti di alcuni corsi accarezza la soglia dell'88%. Riapriamo le chiese. L'appello è stato lanciato oggi da Don Daniele Calligaris, vicario foraneo del Friuli Collinare. Il governo ha chiarito che è possibile pregare nelle proprie parrocchie nel rispetto delle ordinanze. È il momento, aggiunge, di manifestare appartamento una libertà religiosa che in questo momento è poco considerata dallo Stato, il quale approfitta dell'atteggiamento troppo remissivo della nostra conferenza episcopale italiana. Sentiamo. Fratelli e sorelle, la buona... D'accordo le fabbriche e le attività produttive, ma riapriamo anche le chiese. A lanciare l'appello è Don Daniele Calligaris, parroco di Colloredo di Monte Albano, Caporiacco, Treppogrande e Vendoglio e vicario foraneo del Friuli Collinare. In un messaggio rivolto ai parrocchiani tramite il proprio canale YouTube, il sacerdote invita i fedeli a recarsi in chiesa nel rispetto delle ordinanze e lancia anche una stoccata alla CEI. Non basta la parola. Abbiamo bisogno di incontrare realmente il Signore in modo particolare nella celebrazione della Santa Messa. Proprio oggi vorrei ribadire a tutti che abbiamo la possibilità, secondo i chiarimenti aggiornati del Governo, di poter andare nelle nostre chiese parrocchiali e di sostare in preghiera naturalmente con le dovute precauzioni ed evitando qualsiasi assembramento. Diamo ascolto alla voce dello Spirito, della coscienza che ci chiama ad uscire, non per andare in giro, ma per andare nelle nostre chiese e sostare in preghiera davanti al Signore presente nei nostri tabernacoli. Allora d'accordo le fabbriche, d'accordo tutte le attività lavorative aperte, ma non senza le chiese. Io credo che testimoniare in questo momento preciso significa, fratelli e sorelle, manifestare apertamente la propria libertà religiosa e andare nella propria chiesa parrocchiale. Una libertà religiosa in che in questo periodo è poco considerata dallo Stato, che approfitta dell'atteggiamento eccessivamente remissivo della nostra conferenza episcopale italiana. Ora è importante però, nel rispetto delle ordinanze, praticare la fede, per quanto è possibile. Domani, ad esempio, nelle nostre chiese parrocchiali, a partire dalle 15 e cominciando da Caporiacco, ci sarà un'ora di adorazione eucaristica. Non ci saranno riti solenni, ma semplicemente la presenza del Santissimo Sacramento dell'Altare. Ricordate che domani è la festa della Divina Misericordia. Questa era anche l'ultima notizia. Io vi ringrazio per la vostra corteggia e fedele attenzione. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.